Le protesi al ginocchio ormai frequentissime, più di 100.000 ogni anno in Italia. Quali sono le cause e la ragione per cui si arriva alle protesi? Il professor Francesco Franceschi, chirurgo ortopedico, Università Unica Millus di Roma, ospedale San Pietro. Le cause allora per cui si arriva alla protesi? Le cause più frequenti consistono soprattutto nell'artrosi, cioè la degenerazione, il danno della cartilagine e dell'articolazione del ginocchio, che purtroppo porta allo sfregamento delle superfici articolari e alla produzione di liquido, spesso le ginocchia si gonfiano e fanno male tanto da far zoppicare i pazienti. Come interviene l'ortopedico? Innanzitutto con metodiche conservative, quindi fisioterapia, infiltrazioni di cellule staminali, ormai molto famose, acido dialuronico, però quando purtroppo la terapia conservativa fallisce dobbiamo ricorrere alla chirurgia e quindi alla sostituzione protesica. Sostituzione della protesi, mettere una protesi, di che materiali sono, quanto durano? I materiali sono sempre più perfezionati, la maggior parte delle volte si utilizza il titanio, ma soprattutto la novità è che molto spesso utilizziamo il robot in sala operatoria, che ci permette di eseguire gli interventi sempre più precisi ed accurati.